ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video haul molto molto particolare perché perché è uscita una nuova linea per quanto riguarda astra io ho fatto un ordine così veloce veloce suoi suoi e ho preso un po di cosucce di questa linea e poi ho preso altre cose che mi interessavano allora mi è arrivata questo brochure credo che sia per l'applicazione del sul telefonino di astra sul telefonino dell'applicazione di astra poi mi hanno mandato questa cartolina dove mi hanno ringraziato dell'acquisto poi abbiamo il pagamento e qui abbiamo tutto diciamo quello che io ho preso allora prima di tutto li voglio ringraziare perché mi hanno mandato due igienizzanti mano mani perché non non l'avevo acquistato e me ne hanno messe ben due quindi queste le utilizzerò le metterò dentro la borsa perché queste servono anche quando finirà il covid ricordate perché molte persone si lavano le mani e tutto nel periodo del covid ma quando finirà dovete sempre ugualmente rovarvi le mani laviamoci sempre comunque questo al 70% di alcol è un igienizzante mani quindi li metterò in borsa quindi grazie a prescindere ad astra poi andiamo a vedere i miei acquisti allora per prima cosa ho preso questo fondotinta che il soft matte foundation ed è un fondotinta effetto opaco e naturale scusate se sentite il computer mai acceso dice che dura 16 ore levigante modulabile non fa effetto mascherone e tutto io ho preso nella colorazione 02 speriamo di aver azzeccato la colorazione e di poterlo utilizzare e al meglio poi un'altra cosa che ho preso è in questa confezione è bello perché ti danno queste veline sono molto molto carine ho preso questa palettina dove ci sono tre prodotti per quanto riguarda l'illuminante e il blush ho preso la glove garden face palette nella colorazione 2 e nella colorazione 2 non si dice 2 perché sbagliate dite 2 si dice 2 ed è la 02 un conventional sakura sakura osakura osakura questi sono i tre prodotti sto scherzando perché mi vado a ridere questi sono i tre prodotti facciamo gli swatch se stefania ha le mani pulite allora andiamo con il blush andiamo con l'illuminante il terzo illuminante questi sono i 3 io ho preso questa la 02 perché credo che sia adatta al mio incarnato e quindi ho preso questa si la mano è zozza per altre cose ma lasciamo perdere sono bellissimi stupendi sono tre illuminanti ovviamente si qui la mano è zozza perché e questi sono i tre illuminanti che adesso vi stanno acciagando belli molto molto belli molto 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 belli allora vi dico i prezzi mentre ci siamo perché non dire i prezzi perché allora per quanto riguarda il fondotinta soft matte foundation 7 euro e 90 ah considerate che quest'ordine io l'ho fatto poi ho messo un buono sconto del 20% quindi mi è venuto 3 euro e 92 in meno quindi il fondation è 7 euro e 90 la palettina questa qui la glove garden la glove garden è costata 6 euro e 90 allora andiamo a vedere gli altri prodottini togliamo la scatola perché qua mi ingombra tutto e facciamo spa un altro prodotto che ho preso è un must have per quanto riguarda l'astra ed è lipnotize di astra quindi liquid lipstick nella colorazione 02 io avevo messo anche il 12 perché c'è stata qualcuno vi dico soltanto che è bionda ed è di roma che mi ha tartassato dicendo prendi il 12 prendi il 12 prendi il 12 prendi il 12 io credevo di aver messo anche il 12 ma il 12 non l'ho messo lizi mi dispiace ma io il 12 non l'ho trovato nella confezione però ho trovato una matita nera che io non avevo chiesto quindi non lo so se c'è stato qualche sbaglio comunque vi faccio lo swatch di questo qua il numero 12 molto molto bello avevo messo questo nel carrello perché mi piaceva e in più lei mi aveva suggerito infatti ci ha azzeccato il colore questo è il numero 2 bellissimo è mio questo è il numero 2 e avevo messo anche nel carrello il 12 ma non l'ha conteggiato oppure non lo so che cosa è successo comunque questo qui ipnotize 5,90 poi ho trovato questa matita che è la deep black eyeliner kajal non so se io ce l'ho uguale adesso guardo in caso ve la metterò come premio in un qualche giveaway mi ha messo questa matita nera ma io non l'avevo chiesto infatti nel non c'è quindi non so nemmeno il prezzo poi andiamo sempre avanti poi vi farò vedere diciamo quelli dell'edizione che sono usciti adesso ho preso un'altra velina volate via ho preso un altro correttore perché sapete tutti che io amo tantissimi correttori di astra per me sono i migliori in assoluto e mi mancava il numero 1 ce l'ho fino al 6 quindi che fa non lo compri? compriamo anche il numero 1 quindi ho preso il più chiaro di tutti ed è il numero 1 adesso non lo apro ma molto molto bello poi il correttore dove sei? 4,90 poi ho preso sempre perché mi dicono fatte le sopracciglia fatte le sopracciglia fatte le sopracciglia fatte le sopracciglia ho preso questo qui perché è una cosa molto più facile perché io non li so fare quindi ho preso un Eyebrown Love Mascara che sarebbe questo spero che la colorazione sia ottima per le mie sopracciglia vi faccio vedere lo scovolino che è questo piccolino 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 e questo l'ho preso nella colorazione 02 e Eyebrown Mascara è costato 3,90 euro questo vi faccio sapere perché ho visto molte persone che lo hanno acquistato quindi sicuramente sarà un buon mascara per le sopracciglia o perlomeno per colorarle un pochettino perché deve imparare ancora poi per quanto riguarda l'astra delle cose principali che loro hanno ho preso questi due ombretti liquidi per gli occhi ho preso questi colori perché io ho tanti ombretti liquidi quasi tutti nello stesso tonalità quindi ho cercato di prendere un colore che sia particolare e che sia diverso da quelli che io già posseggo questi qua ombretti liquidi sono costati 5,90 euro ciascuno e io ho preso lo 03 e lo 06 allora lo 03 ve lo faccio vedere è tipo un doratino che vi assicuro che io di norma non utilizzo questi colori però mi piacerà utilizzarli perché li ho visti anche mixati e quindi è una cosa che io adoro se mi trovo bene prendo anche gli altri perché sinceramente i colori sono molto molto belli guardate la luce che fa questo ombretto soltanto sbocciato nel dito cioè nel dito, nella mano pensa, pensa sugli occhi con un mascara linea nera stupendo e poi perché è sporco qua? io rincretinisco e poi ho preso lo 06 che dovrebbe essere tipo un bronzo un bronzo che ha del verde all'interno ed è questo, sì è un bronzo che ha del verde mi piaceva tantissimo l'accoppiata e non è da me questi colori quindi ho voluto prendere questo guardate, cioè ditemi voi se non sono belli questi colori stupendi veramente 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 stupendi poi per quanto riguarda la linea nuova ho preso soltanto 4 prodotti ho preso le due matite ho preso sia quella nera che quella marroncina perché li volevo prendere e ero molto curiosa questa linea si chiama Pure Beauty che è questa è Astra Pencil è al 90% naturale è una matita occhi cosa dice il più? con olio di cocco biologico e io ho preso sia la nera che la marroncina adesso li sbocciamo tutte e due per vedere no, bello è il nero il nero è molto molto bello vediamo marroncino perché mi hanno detto utilizza anche marroncino per dentro l'occhio quindi lo voglio provare questi sono i due colori sia del nero sopra e del marroncino sotto devo dire che sono molto scriventi e ottime come matite poi ho preso il Juicy Lip Oil questo qui non l'ho ancora aperto infatti è sigillato odio quando c'è l'adesivo lo odio l'adesivo odio gli adesivi comunque lo lascio così poi lo sistemo ed ha un pennellino abbastanza cicciotto perché si vede anche all'interno vedete un pennellino abbastanza cicciotto lo voglio sbocciare per sentire la consistenza assomiglia al pennellino è molto carino bello cicciotto allora assomiglia ai gloss di sì, me lo sono attaccata al naso assomiglia ai gloss di Fenty Beauty come odore almeno credo comunque la consistenza è un pochettino appiccicosa è qui proveremo e vedremo com'è ma dovevo assolutamente prendere il pezzo forte di questa collezione che è codesta ed è la palettina questa è una pure beauty eyeshadow palette con amido di tapioca alta pigmentazione è facile da sfumare ed è 90% naturale quindi è in cartone ed è molto bello l'unica cosa è che non c'è lo specchio ma chissene e questi sono i colori sono davvero bellissimi uno più bello dell'altro ovviamente vi faccio gli swatch questi sono i primi tre ve lo faccio vedere qua si vede? ah no avevo preso dove non c'era niente questi sono i primi tre aspettate che ve li sguaccio tutti mentre ci sono tanto avete qualcosa da fare voi? poi questi mamma questo io lo adoro il malva il malva io lo adoro come pigmentazione ci siamo eh gli ultimi tre uno due e tre guardate qua bella 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 veramente vabbè quello nel mezzo questo questo qua è un color burro che sarebbe questo sarebbe questo qua quindi è un burro quindi se non si vede bene è perché è della mia carnazione è della mia carnazione allora questi sono tutti i colori non so se si vedono bene devo dire che è molto pigmentata come palettina molto molto pigmentata mi piacciono mi piacciono tantissimo e quindi non vedo l'ora di fare una full face cioè di fare un non vedo l'ora di fare un video direttamente con questa palettina e di truccarmi con questi colori adoro specialmente questo questo vabbè mi piace mi piace come palettina già l'avevo vista direttamente sul sito e sinceramente mi è piaciuto subito è stato amore privavista e quindi l'ho voluta prendere ho azzeccato sì ho azzeccato sinceramente la scelta quindi ottimo io direi che per questo video è tutto non vedo l'ora di utilizzare io metterei anche questo guarda che è bello questo Fabiana guarda è bello questo è bello questo è bello questo è bello questo è bella prendila dovete capire che io Fabiana e Elisabetta ci mandiamo delle foto dei messaggi diciamo tipo se io faccio acquisti o se loro fanno acquisti quindi li mettiamo nel gruppo e quindi facciamo che bello questo svolciami quest'altro oh guarda l'ho comprato anch'io quindi una tragedia siamo tre perché ci influenziamo a vicenda niente ragazzi che dirvi io ringrazio tantissimo Astra per avermi regalato l'igienizzante mani perché sinceramente è un gesto molto molto bello specialmente in questo periodo quindi apprezzo tantissimo questa cosa per quanto riguarda la palettina allora mi sono dimenticata di dirvi le ultime cose allora le matite le matite sono costate 2 euro e 90 ciascuno cioè pochissimo pochissimo quindi significa che in tutto l'ordine mi hanno regalato una matita super giù poi l'olio per le labbra è costato 4 euro e 90 pochissimo per quanti grammi di prodotti ci sono aspettate che io sono ciecata 5 ml di prodotto e poi la palettina questa qui è la glove garden come si chiama la palettina invece la palettina colori natura pastel è costata 8 euro e 90 cioè pochissimo veramente sono dei prezzi bassissimi per avere una qualità che sinceramente Astra sta dando a molti di noi perché all'inizio forse il brand non era molto diciamo nella swipe quindi nel suo vivo di di prodotti e tutto ma adesso veramente sta lasciando prodotti a bomba veramente e quindi sono molto molto contenta e vi ho fatto vedere gli swatch sono uno più bello dell'altro quindi sono molto molto contenta di averla presa che dirvi di più io vi saluto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spoliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao